Quelle che vedete sono le isole Borromee, con il promontorio della Castagnola. Siamo sul Lago Maggiore. Questo invece sono io. Certo, così stravaccato sulla panchina stono un po' nella cornice elegante e distresa. Ricca di sontuose residenze e lussuosi alberghi, sede di numerose manifestazioni mondane, sportive e culturali, baciata da un clima mite che richiama turisti provenienti da ogni parte del mondo durante tutto l'anno. Questi motivi, ma non solo, rendono stresa la principale meta turistica del Lago Maggiore. Ed io sono qui ad aspettare Alberto. Beh, intanto vado a fare un giro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il nucleo storico di Stresa comprende la parte del borgo che si affaccia sul lago, in una meravigliosa posizione panoramica di fronte al Golfo Borromeo. Le numerose ville d'epoca, i giardini, il lungolago fiorito e le decine di negozi locali alla moda sono una calamita per il turismo internazionale, che già dalla seconda metà dell'Ottocento ha consacrato Stresa come una delle mete più ambite in Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi dirigo verso il porto di Stresa per imbarcarmi su un battello della compagnia che gestisce il trasporto pubblico locale e raggiungere comodamente le isole Borromee, principale attrazione della zona e di tutto il lago maggiore, dove una perfetta combinazione di arte e natura hanno saputo creare un luogo magico di sorprendente bellezza, omaggiato tra gli altri anche da Hemingway, che in questo angolo di paradiso ha voluto ambientare uno dei suoi romanzi più famosi, addio alle armi, divenuto la testimonianza immortale del grande amore che il famoso scrittore provava per Stresa, la regina del Verbano. Isola Bella, fermata di Isola Bella. Ci sono voluti 400 anni e il lavoro di grandi architetti, pittori, scultori e ogni genere di specialisti dell'arte, che nel corso dei secoli si sono dedicati alla trasformazione dell'Isola Bella, da scoglio quasi disabitato a emblema dell'arte barocca in Italia. Suggestive viuzze e graziosi scorci, ristoranti e negozietti contribuiscono a creare quell'atmosfera magica che solamente qui si può percepire. L'isola oggi appare come un grande vascello che solca le acque del lago maggiore, così come vollev italiano Sesto Borromeo, considerato il fondatore dell'isola. L'isola Bella è occupata quasi interamente dal Palazzo Borromeo e dal suo sontuoso giardino, entrambi scrigni di innumerevoli e inestimabili opere d'arte. Al secondo piano del palazzo ci sono oltre 50 stanze, occupate proprio dagli attuali discendenti, che sono i Principi Borromeo. Quindi è un palazzo che è sempre stato a una residenza estiva, privata e lo è tuttora. Quante stanze abbiamo in totale nel palazzo? In totale sono più di 100. Più di 100? Più di 100. Purtroppo aperte al pubblico sono poco più che 30. Ed è la parte più bella naturalmente, perché noi vedremo il piano di ricevimento. Scopriremo ora il tesoro del palazzo. Subito col tesoro partiamo. Subito, subito, perché questa è una parte veramente bella, nel senso che è la parte meglio conservata del palazzo. Perché ora quello che ti mostrerò è la galleria dei quadri. Vedrai oltre 150 opere d'arte. Questa è la parte che è fedele all'originale. Può essere considerata il museo personale della famiglia Borromeo. Già all'epoca questa stanza ospitava quadri e mobili disposti in questo tipo. E non a caso l'hanno messa qui alla fine dello scalone. Esattamente. Uno veniva proprio indirizzato in quest'ala dove si poteva veramente ammirare questa splendida collezione di opere d'arte che vanno dal 400 al 600. Soprattutto ci permette di capire questa pinacoteca la storia della pittura durante il Rinascimento Lombardo. Come ti dicevo è il museo privato della famiglia dove esponiamo praticamente quasi a mosaico tutti questi dipinti. Coprono praticamente le pareti. Non c'è uno spazio vuoto. Questi ambienti erano chiamati quadrerie. Qui ha dormito una sola notte il generale di Napoleone Bonaparte, Louis Berthier. Ecco perché questa galleria è chiamata anche la Galleria Berthier. Ti faccio vedere una cosa straordinaria che è la stanza delle regine. La moglie di Napoleone ha dormito qua. Quindi tu mi dirai Giusefina de Boarnet, guarda che belle queste stanze perché sono praticamente comunicanti. Vi sono due letti gemelli quindi si poteva entrare da una stanza all'altra. Quindi vedi come tutto è sorpresa. Una stanza creata ad hoc per gli ospiti più importanti dell'epoca. Oltre a Giusefina Boarnet ha soggiornato anche la regina d'Italia e Maria Cristina d'Austria. Ci sono numerosi gli ospiti. Numerosi gli ospiti che durante i secoli... So già che me ne racconterai poi... Poi ti farò vedere la stanza dove ha dormito un ospite che praticamente dormì un po' dappertutto. Questa è la sala del trono. Vedi assolutamente... Sobrio. Sobrio. Un strono che non ha neanche l'idea di essere molto comodo. Ecco ti dicevo comunque Ibo Romeo non è stata una famiglia reale. Quindi mi chiederai ma come mai hanno un trono? Inizia a guardare questi strani personaggi che sembrano sostenere il soffitto sulle spalle. Se osservi bene i volti sembra quasi che stiano parlando tra di loro. Quindi guardando i volti tu capisci un pochino meglio la funzione che aveva questa sala. Era praticamente la sala di udienze dove venivano ricevuti politici, ambasciatori. Quindi era qui che si poteva discutere di affari insomma. Qui siamo all'interno del salone più grande. Naturalmente te ne rendi conto. Sembra quasi di entrare in una cattedrale. Raggiunge pensa i 23 metri di altezza questa sala. E ti permette anche di vedere la parte privata dove ci sono alcune delle stanze utilizzate. Le 50 stanze che vengono ancora utilizzate. Non tutte diciamo però buona parte delle stanze private sono proprio al secondo piano. È una stanza veramente che ha una luce pazzesca, i colori, le finestre, la simmetria. È proprio il salone di ricevimento, la sala da ballo. E questo modellino? Tu dovresti immaginarti il modellino girato da questa parte. Vedi questo bellissimo scalone monumentale, una balconata che però purtroppo oggi non esiste più. Praticamente l'ingresso è da... Dove siamo entrati da dietro? Assolutamente, dove ci sono tutte quelle arcate. In effetti questa sala doveva essere l'ingresso principale del palazzo. Quindi immaginati entrare di qua, ci si doveva subito rendere conto dello sfarzo e dell'importanza della famiglia. Devo dire che anche adesso comunque lo dimostra bene. Eh va bene, in effetti hai ragione. Ecco, qui siamo invece all'interno della sala della musica. Naturalmente c'è un bellissimo clavicembalo, questo è uno strumento italiano che è stato restaurato quest'anno e che risale al 1692. È una sala che però è molto più importante per la storia. Fu qui che si tenne la conferenza della pace di Stresa, che fu un tentativo fallito purtroppo da parte di Italia, Francia e Gran Bretagna di cercare di contrastare l'avvento della Germania nazista. Ora vedremo insieme la stanza che ha ospitato un personaggio che ha praticamente dormito dappertutto. Mi sa che ho indovinato già chi è. Secondo te chi ha dormito in questo letto a Baldacchino? Direi che dopo il generale, dopo la moglie, viene Napoleone. Esattamente. Ha dormito nel 1797. C'è una piccola curiosità. Lui non venne invitato dalla famiglia. Si presentò sull'isola, quindi si dovette preparare questa stanza, aprire le stanze al piano di sopra perché lui venne invitato, venne in questo palazzo seguito da oltre 60 persone. Ma ci dormì una notte sola. Ecco Stefano, siamo ora all'interno della Sala da Vallo. Pensa che hanno mangiato qui anche Lady Diana col Principe Carlo. Durante uno dei loro primi viaggi in Italia sono proprio stati ospitati all'interno del Palazzo della Famiglia ed era il 1986. Quindi immaginati questa sala trasformata in un salone di ricevimento, in una sala da pranzo. Siamo al piano terra del palazzo e immaginati nelle sale così, decorate con pietra lavica, marmi, ciottolini di fiume. Immaginati che all'epoca erano addirittura abbellite da zampilli, giochi d'acqua. Quindi secondo te a cosa potevano servire? Mi sento già più fresco. Vedi, era proprio il luogo di frescura. Chiamiamola l'aria condizionata dell'epoca. Immaginati durante le giornate calde dell'estate, dal giardino si potrebbe entrare in questi ambienti e naturalmente godere del fresco, grazie naturalmente allo spessore delle mura, alla pietra stessa che crea un ambiente perfetto da sfruttare durante le giornate più calde. Quelli che vedi sono sei arazzi fiammenghi che risalgono, pensa, al 1565. Sono ancora più antichi del palazzo. Dunque Stefano, ti faccio vedere la particolarità dell'ultimo arazzo. Ecco, devi osservare il fiume, vedi, attraversato da un leone. Osservandolo da qui, se ti fermi qui, vedi proprio che il fiume viene verso di te. Andando avanti lentamente, sembra proprio che ti segua, che scorre insieme a te. E quando tu arriverai alla fine, insomma, all'ingresso del giardino, ti accorgerai che il fiume ha cambiato la direzione. Sembra che stia scorrendo in senso opposto. Esatto, è come quando tu osservi gli occhi della Gioconda. È lo stesso illusione. Quindi questo è il teatro. Questo è il teatro, è la parte del giardino che proprio viene chiamata il teatro massimo, ha proprio la forma di un anfiteatro. Vi sono diverse statue che hanno tutta una simbologia, tipo gli elementi aria, terra, fuoco, acqua, architetture, obelischi e vedi molto meglio l'unicorno, il simbolo araldico della famiglia. Il giardino all'italiana dell'Isola Bella si sviluppa su parterre e terrazze che scendono gradualmente verso l'agua a formare uno scenografico balcone che rappresenta un punto privilegiato per ammirare il golfo e le montagne circostanti. Tra i viali del giardino si alternano statue, obelischi, fontane, aiuvole, scalinate e balaustre in pietra create ad arte per celebrare la potenza della nobile casata dei Borromeo. E qui sotto c'è la parte del giardino che vede questo piccolo labirinto, la vasca delle ninfee che è chiamato il giardino dell'amore. E qui sotto c'è la parte del giardino del giardino che vede questo piccolo labirinto,